Elisa Ramasso è un guardia parco del Parco delle Alpicozie, lavora nella sede del Gran Bosco di Salbertran. Per una ragazza cosa significa fare il guardia parco in un ambiente naturale così unico e importante? Allora è sempre stato il sogno che avevo fin da bambina, quindi per me è stato abbastanza naturale. Ho fatto di tutto a partire dagli studi per riuscire ad arrivare a fare questo lavoro, ad essere un guardia parco più che a fare questo lavoro. Vivendo in montagna non ero in grado di vedere un altro futuro per me a livello lavorativo. Essere guardia parco come donna è abbastanza complicato perché i tempi si sono cambiati però comunque l'ambiente rimane un ambiente maschile, un ambiente difficile a livello alpino e quindi bisogna tirare fuori un po' di grinta e inventarsi anche delle nuove capacità, diciamo così, sfruttare l'intelligenza femminile per sopperire quando manca la forza fisica. Non posso paragonarmi di sicuro ai miei colleghi e non ho capacità come hanno loro per esempio di scia alpinismo o di soccorso alpino. Grazie. Grazie